Dal 18 marzo al 18 giugno ritorna la Primavera a Pordenone, kermess promossa dal comune di Pordenone e organizzata in collaborazione con una quarantina di associazioni del territorio. Il format intende promuovere la città e il suo fermento culturale attraverso 200 eventi che spaziano dalla cultura al tempo libero, dalle attività recreative allo sport. Una miriade di appuntamenti che toccheranno i teatri, i luoghi di aggregazione, le piazze, i parchi e le aree verdi, facendo riscoprire ai pordenonesi e a chi viene da fuori una città bella e accogliente. Durante questi tre mesi si potranno visitare le mostre dell'artista Alberto Magri alla società operaia, quelle del fotografo Matteo Balsamini in Galleria Bertoglia, quella delle più belle ceramiche Galvani a Palazzo Ricchieri e le esposizioni al PAF, divenuti in questi giorni in Museo Internazionale del Fumetto. E ancora spettacoli teatrali, grandi concerti di musica classica al Verdi all'ex convento di San Francesco, ma anche esibizioni pop, rock e jazz al Capitol. Numerose le rassegne da Dedica a Pordenone Dogfest, dalla Segovia Guitar Week a Jazz Insieme, dal Festival Piano City a Polinote Music Festival. Immancabile l'appuntamento con Pordenone Pensa, che proporrà vari incontri con importanti personaggi della cultura del nostro paese. Grande attenzione è riservata ai bambini e alle famiglie, con vari laboratori creativi in biblioteca civica e tante attività in piazza 20 Settembre, per divertirsi durante la giornata del ludobus. Ricò il calendario delle proposte per il tempo libero al Parco San Valentino, la Fortaiada, gli aperitivi della Domenica con DJ Set, la Sagra di San Valentino e i numerosi concerti dell'Orchestra e Coro San Marco. In centro città invece avranno luogo il mercato europeo e la tradizionale festa sul non-sell. Per concludere, numerose sono le iniziative sportive di portata internazionale, come i tornei giovanili Cornacchi e Gallini, i trofei di judo, basket e un concorso di danza. Inoltre a fine maggio si disputerà una partita da vincere, incontro benefico di calcio con ex campioni di Serie A, il cui ricavato andrà a favore dei bambini del Cro. Per informazioni sul programma www.comune.pordenone.it slash primavera